12 luglio 2014, San Leonardo i signori lavorano allacramente si riposano dalle fatiche dalle fatiche della colazione guarda 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 è bello, sei migliore tu delle altre cose delle persone ah in cosa sei messo Rosa? guarda in bosa è bellino piccolo piccolo ma sai che ci piace la fotografia ha capito che lo stai riprendendo? lo stai riprendendo? lo fai mi lasci solo cosa ci diamo a bingo mio? a piccoletta? cosa ci diamo a piccoletta? a piccoletta cosa ci diamo? 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 in un'unico se e' la nota un'indicione a piccoletta cosa ci diamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. 13 luglio 2014. Ecco qua. Così abbiamo il piacere di avere la signora Rosa con noi. La madama. Così abbiamo il piacere di avere la signora Rosa con noi. Così abbiamo il piacere di avere la signora Rosa con noi. Così abbiamo il piacere di avere la signora Rosa con noi. Così abbiamo il piacere di avere la signora Rosa con noi. Già è ammaccato, continua a girare piano piano. Oh, aspetta di qua. Piano piano, piano piano. Non metterci la bandana. Così? Non metterci la bandana. Non metterci la bandana. Ah, lei l'ha presa. Gira, gira. Ciao. Voglio vedere quelle cose da sopra. Però non li vedo. Troppo lontano. Ciao. 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 che buono cingine lo fanno loro buonissimo e buono fanno un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più una parte 14 luglio 2014 14 luglio 2014 14 luglio 2014 Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti Salute Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Buono buono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti